mi sono pizzicata mi sono pizzicata perché non vedevo l'ora di sistemarmi per provare queste nuove case che mi ha regalato il mio follower me le ha inviate me le ha inviate fausto mettere giulottino con calottierina gomma fausto sei stato meraviglioso perché questa marca di calze l'ho già avuta le avevo prese per me e in un video le ho distrutte quindi oggi provo con voi queste bellissime case autoregente spettacolo mamma mia quanto sono belle velatissime una meraviglia poi hanno la balza alta vediamo come mi stanno sono davvero curiosissima di vedere come mi stanno proviamo come mi stanno proviamo sono bellissime veramente bene 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 bu bene bene bu Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con la balsa alta di morbidissime, mamma mia che belle. Mi piacciono tantissimo. Grazie a tutti.